Tunisiani eccoci qua in questo nuovo video della caccia al tesoro insieme ai miei amici pazzurdi vero vestiti da matrimonio Di pazzurdissimi vestiti da matrimonio Tutti eleganti oggi Si 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 perché si deve svolgere un matrimonio tunisiani Io sono la sposa fate gli auguri Lei è la sposa fate gli auguri a Chiara con un'altra persona molto speciale per lei chiaramente deve sposarsi Allora carissima Chiara visto che io ora sono più prezioso Mi nasconderai questa armatura Ma non so se sei più prezioso anche io l'uncente bris Ok e beh allora ti nasconderò anche io l'uncente bris E indovina che l'ha trovata Chi può essere No sicuramente non è stata Chiara non fa niente Chiara costruisce Chiara è quella che costruisce Io faccio le skin Si tu fai le skin Angelo invece quello che fa nel nether poverino Quello torturato Comunque intanto vai 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 Vado 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 Io non ho trovato niente quindi vabbè Vabbè intanto tu Fede vieni qua con me Che io non posso vedere indietro Sennò poi dopo Vieni davanti a me E' bari Eh esatto se no non posso barare Comunque vedete Duniziani questa casa che ha fatto Gabri Molto bella Cioè nel senso Molto carina Molto più bella di prima Poi certo dentro non c'è un beato cappero di niente Duniziani Eh ma l'ha finita oggi praticamente Cioè Eh esatto Figurati C'è ancora c'è ancora tempo ovviamente per riempire il tutto E renderla una casa spettacolare come sempre Chiara Io ho finito Oh meno male perché sennò Ok Allora Fuoco acquaria vai Acqua Acqua ok da questa parte Qua Vai verso il fuoco sì Ah bene 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 Stavi arrivando da quella direzione è stata molto Sgamabile Eh sì però Eh no acqua Eh che pizza Fuoco Ma dai ma grazie E no ma non è giusto Non pensavo Ma scusa No Che schifo Io non c'ho neanche pensato tra l'altro Adesso dammi immediatamente la tua Antet de bris Grazie mille Eh Angelo Ma porca miseria Io l'ammazzo E ti devo scioccare per forza Per forza Per forza deve succedere questa cosa Cosa hai detto Cosa hai detto Tu creatura dell'universo Demonico Scusami Chiedo perdono Come si incinocchia così Sì no saluto Cosa stai facendo Io ancora decido di non uccidere il povero angelo Però le pene Ah io non devo guardare Sto seguendo Ah è vero pure sto seguendo Tranquilla che io stavo solamente andando a prendere la cassa Dalla casa Perché non ho una cassa qua Però i donisiani qua intanto vedrete le mie cesse Tutte disorganizzate perché chiaramente io mica sono organizzato No non potete dirmi che io sono organizzato Anche con i video di youtube Vedete bene Vabbè insomma Non possiamo dire altro Se no poi dopo qua Però insomma io sono molto organizzato come persona Certo Però ho fatto la cassa finalmente Oh che bella la cassa Non se osi guardare È la fine Non stiamo guardando Tranquillo Non stiamo guardando Vabbè l'importante è che Chiara non guarda Poi se voi guardate Allora veramente Non lo so sapete Sarebbe anche bello tipo Farla tutti e tre Quindi adesso per questo video provate a non guardare Come non detto Allora Io l'ho nascosta ben benino l'armatura E adesso decido Chiaramente di tiparmi Perché non ho l'intenzione di stare qua E i donisiani A camminare Ma salve Allora Forza forza Salve Fatemi vedere in che direzione Allora Ok L'acqua sta diventando giusto un po' più tiepida Ma sei ancora abbastanza distante Allora verso la tua casa O verso Allora no Verso la mia casa Non è la mia casa Ti dico già da subito Quindi Va bene Se vai nella mia casa Acqua Allora da questa direzione Acqua Devo dire E qua diventa un po' più tiepidino Però comunque è sempre acqua Ho sbagliato strada Ah eh sì Però intanto Chiara Allora prima di tutto Devi essere più felice Mi hanno già Sono felicissima Mi devo sposare Cioè Eh infatti Cioè È solo tesa La tensione È la tensione Ovviamente È la ansia da matrimonio Comunque qua è acqua Ma dai Angelo Cioè Cioè Veramente No Io verrei sciocco basito Cioè Raga Vai Forza Allora Sì 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 Assolutamente Cioè Allora Sì 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 Il deed Teso Stop Posso Sto Forza Facciamo acqua Aria Terra fuoco Vai No acqua 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 Proprio ghiaccio Il ghiaccio più totale Ho detto ghiaccio Quella direzione Ghiaccio Completamente Se io sono qua chiara forse dall'altra parte no giustamente acqua ok adesso sta diventando un po più tepidina l'acqua un po più tepidina no 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 acqua 0 0 0 ghiaccio c'è hanno ghiacciato oddio ma cosa sta dicendo angelo perché puzza cos'è che puzza poi occhio ma poi poi perché devi devi parlare tipo basso è stato lui di unisiani non sono stato di stato lui che è giusto sì comunque qua vai verso il fuoco chiara molto brava avvicinando assolutamente forse per andare verso il fuoco vabbè qua verso l'acqua dove stavi puntando adesso come puoi anche ben vedere verso l'acqua invece è molto no 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 ok ok forse ho capito forse ho capito ok fuoco fuoco molto bene unisiani si sta avvicinando vediamo se sta se capirà oppure no dove dove messo perché manco io mi ricordo e da questa parte giusto cosa abbiamo qua è la sua cassa con le cose adesso però grazie mille questa cosa adesso però io direi i ragazzi che tocca a me di nuovo a dove adoro non ne ho idea mi sono completamente ma cosa sta dicendo angelo ma che ne so io non lo sento cosa stai facendo tu schifoso che sto facendo io che si permette di fare queste molte cose ah comunque mi sono scordato di darvi le cose quindi tenete il mio povero piccone allora ma qua c'è ancora la strada di gabri che noi perché c'è cos'è che c'è là dentro sono i zombie di halloween non li ammazzare i zombie di halloween ma vi sembra una cosa normale con la zucca che carini chissà cosa ci farà gabri con queste cose va che schifo chissà cosa ci farà ma davvero sono curioso perché sinceramente no denis no eh scusatemi eh lo vedo là nella barca intrappolato cioè che cosa poi gabri si sa che è un po' fuori di testa aspetta che lo sente gabbro poi si sa che gabri è un po' fuori di testa quindi queste cose potrebbero anche venirgli abbastanza in modo semplice ciao gabri ti voglio bene gabri quindi tu lo sai sì sì come no eh eh come come no eh no io voglio bene a tutti voi non voglio che ve lo scordate questo io vi voglio un sacco di bene questo stava facendo chiara stava trotterellando per la felicità ciao ciao eh ma angelo dimmi un po' devi devi nascondere un'altra mezza ora per quello sto per dire ho finito ok eh ok non mi giro però forza entro da me eh sto per girarmi eh no eh è purtolentone purcello ferma cosa hai detto purcello a me purcello ah ecco era in affetta era in affetta scusa puoi parlare in italiano puoi parlare in italiano grazie no perché oh bravo oh allora acqua after a vento acqua acqua si sta iniziando a ah ok qua l'acqua si sta iniziando a vediamo le bollicine col fumo proprio che fa da questa parte le bollicine con sì ok qua adesso ok l'acqua sta evaporando eh la 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 addirittura l'acqua sta evaporando ma quindi sono vicino eh un po' fuori acqua ghiaccio schifo ma scusa ma come allora da questa parte per forza no 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 chi ti stai congelando un iceberg sei sicuro mi stai dicendo le cose giuste l'ho capito sì mi stai dicendo le cose giuste ok allora da questa parte forse allora qua l'acqua si stava evaporando eh per il momento sei acqua si stava evaporando qua l'acqua ah no no ghiaccio ghiaccio qua prima l'acqua tiepida no nì stai andando verso la direzione direzione giusta ok quindi da questa parte da questa parte ok bravo ok quindi sempre di più sempre di più tiepida acqua fredda acqua freddissima stai congelando quindi da questa parte ma diventa nice per favore ma dai ma che pizza ma dai ma io veramente non so facciamoci che non so forza qui adesso come l'acqua sta cavolo di acqua nella direzione giusta però eh e dove stavo qua sta che andando bene qua qua da questa parte ah ma io non sto capendo ma infatti ma stai qua non è di qua aspetta fede stai scherzo di bb lo sai vai angelo quindi da questa parte no ok da questa parte mammut ghiacciale da questa parte velocità calda ok vai calda acqua cosa sei ma non sono la vantaglia ma infatti ma angelo sei un disastro a dare indicazioni che schifo un disastro completo ok vai vai da questa parte ok foco fochino qua no ok sto bruciando stai bruciando qua perca miseria da questa parte sto bruciando stai bruciando quindi per forza qua mi stai dicendo ma già stai morendo ma ma grazie di questo dono pazzurdo mamma mia angelo è stato bravissimo a darmi indicazioni non è mai vero bravo angelo bravissimo bravissimo proprio allora adesso facciamo un turno flash cos'è stato facciamo un turno flash e chi è che vuole fare il turno flash oh bene farà angelo il turno flash molto bene tu vai sì molto bravo denis denis ho un posto fammi vedere il tuo posto chiara adesso noi qua andremo ad andare nei posti più pazzurdi dell'universo e sicuramente scopri ah qua qua che tutti quanti oh eh cosa è successo scusate un attimo primo 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 un'interruzione pubblicitaria perché qua chiara da questa parte direi giusto direi di sì oh guardate dunisiani top ad oro cioè io direi di lasciarlo non troppo capito top ad oro cioè allora primo primo però angelo cosa stavi facendo prima ti sei rimesso tipo a fare così a caso senza rendertene conto stavi tipo parlando non so di cosa secondo me è indemoniato dunisiani cioè lui è indemoniato non sta bene è anche pazzo esatto non è che sta bene e poi c'era fede no ma poverino eh non è successo è successo complicazioni che cos'è ti è caduto il monitor non lo so eh no mio nipote ha preso a calci un giocato non mi interessa non mi interessa ma perché mi devi dire del tuo nipote fede il nipote me lo dici dopo ma adesso siamo su di tu ah salve salve allora vai prendi un passo e guida vai ok ok più più tiepido adesso facciamo che anche chiara il verso giusto giusto vai anche tu chiara dai dei dettagli e l'acqua sta iniziando a diventare un po' tiepida esatto si molto più tiepido molto più tiepido piano piano proprio piano piano sta evaporando chiaramente poi qua oh questa era fredda basta eh no qua no no qui proprio fredda no ma cosa cioè era la direzione giusta però no qua l'acqua era quella ma qui proprio qui ti congeli assolutamente congelamento pazzurdamente totale mamma mia è la tempesta no tempesta di porca miseria eh stavi per dire lo tsunami c'è lo tsunami vabbè lo tsunami eh quindi vai c'è una direzione ok quella qua si sta diventando sempre un po' più tiepidino tiepido un po' più tiepidino un po' più tiepidino un po' più tiepido un po' più tiepido che cosa è stato no ma c'è proprio si è ghiacciata l'acqua è bobo è un bel po' di più eh la no lo sto diventando è la no la papilla ah ah tunisiana ah tunisiana ah 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 porca miseria eh la porca miseria il fuoco è diventato è diventato tutti intorno a noi ci ha ascoltato tunisiani è stata io ce la faccio io ce la faccio cioè si però sti versi evitiamo per favore perché se no e questo è il modo di ridere di angelo tunisiani dovete sapere questo cioè wow e non so che cosa potrebbe essere secondo me una lavastoviglie in preda ad un attacco di panico una lavastoviglia mamma mia guardavo le lavattrici da piccolo si ma eh tunisiani dovete sapere esclusiva esclusiva vi dico questo aneddoto io da piccolo mi guardavo le lavatrici per due ore di fila non sto scherzando se la lavatrice lavava per due ore io per due ore stavo lì davanti e desideravo di diventare una lavatrice da grande io l'ho detto qua l'ho detto bene pochi problemi mamma mia in l'ho detto questa cosa è aperta al mondo eh tunisiani fateci voi quello che volete fateci meme fateci fateci le cose fateci altre cose tutto quello che vi passa per la mente me e lavatrice con la testa dentro la lavatrice sarebbe anche una bella idea ora quindi tunisiani siamo arrivati fino alla fine di questo video pazzurdo mamma mia sì mamma mia splendida eh splendida pazzurda eh mamma mia quindi niente iscrivetevi al canale attivate la campanellina come fanno gli youtuber commentate con lavatrice tunisiana lavatrice così no molto bello e quindi noi ci vediamo al prossimo video e quindi ciao 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 che cazzo ciao 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 ciao